Una comunità di intenti per affrontare l'anno scolastico e quanto affermato questa mattina il dirigente dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Raffaele Palomba, alle telecamere di TV City. Ieri il primo giorno di scuola, quali sono state le sue sensazioni e le sue emozioni? Diciamo che ieri è stato un ingresso sperimentale, infatti ieri l'abbiamo dedicato all'accoglienza dei più piccoli, quindi i tre anni della scuola dell'infanzia e le classi prime della scuola primaria e le classi prime della scuola media al plesso di Campi Flegrei. Che anno scolastico sarà secondo lei? Secondo me un anno scolastico sarà sui generis, sperando che la curva dei contagi, le notizie dell'ultima ora sono anche allarmanti. Tra le altre misure abbiamo organizzato un'unità di anti-covid, un'aula dedicata, dei referenti, quindi se si dovessero verificare dei sintomi sospetti in qualche bambino o anche qualche adulto del personale, quindi scatterà tutto un protocollo e quindi questo chiaramente poi potrebbe portare, come in tutta Italia, a delle misure da parte delle autorità sanitarie. Chiaramente la scuola quest'anno è una scuola che richiede da parte dei docenti, dei bambini, ma anche delle famiglie, una unità di intenti, quindi un'alleanza e quindi tutti quanti, mai come questa volta, il patto di corresponsabilità ha una valenza, nel senso che da soli i docenti non ce la possono fare, da soli i genitori non ce la possono fare, da soli gli alunni non ce la possono fare. Soltanto con una comunità di intenti, una comprensione, uno spirito di appartenenza alla comunità, possiamo cercare di passare indenni per questa fase particolare, storica direi, perché è la prima volta. Nessuno di noi è preparato ad un evento di questo genere, quindi stiamo tutti imparando, facendo. Quali misure di prevenzione ha adottato il suo istituto scolastico? Abbiamo curato moltissimo il distanziamento sociale, fortunatamente le nostre aule sono abbastanza capienti, quindi siamo riusciti a rispettare quel famoso metro da bocca a bocca, da l'uno all'altro, posizionando i banchi con delle strisce rosse che, voglio dire, rappresentano proprio il margine invalicabile, e due metri dal docente. Poi abbiamo provato a, tra virgolette, a difendere i confini della scuola. Allora, innanzitutto, per evitare assembramenti a malincuore, abbiamo dovuto chiudere l'accesso dei veicoli, che normalmente era utilizzata anche dai genitori, e quindi abbiamo installato una sbarra automatica, e quindi l'accesso, diciamo, all'ex Pineta, che si trova a Monte, è soltanto al personale, mentre i genitori devono sostare lungo la strada giusto il tempo per consegnare i bambini. Abbiamo disposto una turnazione negli ingressi e nelle uscite, e abbiamo predisposto degli spazi esterni di raccolta, quindi il genitore è tranquillo, perché basta che vede il bambino che viene preso in consegna dalla maestra, che attende fuori sullo spazio di raccolta. I bambini misurano tutti la temperatura, arrivano nella loro aula, si siedono nei banchi, sanificano le mani con il gel che la scuola mette a disposizione, e tolgono la maschera, secondo quelli che sono i dettami, appunto, delle linee guida che abbiamo ricevuto. Infine, un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano a cominciare l'anno scolastico. Dobbiamo imparare a essere resilienti, no? Come si dice. Quindi è una qualità che sicuramente i bambini che oggi hanno la sfortuna, ma anche la fortuna dal punto di vista caratteriale, perché sicuramente sarà un rinforzo del loro carattere per il futuro. Quindi auguro che tutto vada per il meglio, e soprattutto mai come oggi ci sarà sul campo proprio un'educazione alla cittadinanza attiva, perché se ognuno non fa la sua parte, certamente non riusciremo a superare questo momento così difficile.